Ancora buona domenica, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. In entrambe le direzioni, veniamo ai treni, un guasto sulla linea San Mignatello e Renai, il treno 18255 Firenze-Santa Maria Novella-Piombino Mare viaggia al momento con 21 minuti di ritardo. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. Guidade con prudenza a più tardi. Grazie a tutti.